Ragazzi buongiorno, iniziamo subito dalla macchina così poi non perdiamo tempo con l'introduzione del video Allora finalmente siamo a metà settembre, dopo mesi di mare piatto, assenza di vento e gente amare che rompeva le scatole Riusciamo a fare una battuta surf casting Si è alzato un bel vento di scirocco in questi giorni, il mare si è alzato, adesso dovrebbe andare in scaduta Già verso le 4 di mattina il vento è cambiato, stavo andando a Sabaudia con un amico Come esca ho portato americano, morto, regalato quindi più attrattivo di questo non esiste E bibi, niente canolicchio, non l'ho trovato Ho visto che c'è stato il picco di bassa marea alle 4 di mattina e adesso andiamo verso l'alta marea che dovrebbe essere intorno alle 10.30 Più o meno Io in questi mesi sono stato molto impegnato però qualche battuta di pesca l'ho fatta Sono uscite delle belle marmore, ho avuto un bel pesce che purtroppo sulla secca poi ha spezzato Si è portato via lo 0,25 Posso già dirvi che era un'orata perché l'ho capito sia dalla mangiata prima ancora di ferrare che poi l'ho avuta qualche minuto in canno Ho cercato di stancarla un po' a largo e si capiva perfettamente che era un'orata su un chilo non di più Però era l'unico pesce bello che era uscito in questi mesi estivi Non ho fatto video perché comunque è una pesca che a me non piace Con mare piatto, tanti pesci di piccola taglia, mangiate che a volte nemmeno le vedevi Sentivi il pesce in canna quando andavi a recuperare la lenza Non è una pesca che mi piace, che fa per me Non è un contenuto che mi andava di portare sul canale Se ho sbagliato me lo dite Così per il prossimo anno perché ormai è andata Però vedo Sono contento perché almeno adesso finalmente possiamo ritornare a fare surf casting come dico io A tra poco Sto senza cassone, senza zaino E quando vieni a pesca con Mirko Fai chilometri a piedi Sì, parlavo male di te Mirko, tranquillo Mamma mia che mare, che spettacolo Che spettacolo E ora è solo da decidere Secondo me siamo proprio scelti nel punto giusto Ok, spot scelto Io mi sono messo proprio Qua dove ci sta una villetta Speriamo che non scenda nessuno Non lo faranno problemi Poi proverò ad avvicinare un po' la videocamera Non si vede niente Buono così Oggi esca Questa è la prossima spegna Oggi l'esca è uno spettacolo Bibi è americana Bibi è uno spettacolo E' uno spettacolo Bibi è uno spettacolo Bibi è uno spettacolo È uno spettacolo Pien-o Sperma Grazie a tutti. Grazie a tutti. Iniziamo bene. Grazie a tutti. 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 E prima nel recupero mi sono impiastrato, quindi mi mette un po' paura in caso di pesce in canno. Però vediamo. Grazie a tutti. 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 Io nel frattempo vi saluto.